Bene, bene, siamo in live, sì Salve a tutti Bene Dovremo essere in live ora Perfetto, perfetto Ottimo Ok Bene, sì, siamo qui sul nuovo gioco oggi, ragazzi Transport Fever 2 Comparto qualche giorno fa E sì Bene, bene Bene, bene, bene Bene, 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 ok Allora adesso mettiamo il gioco Ottimo Eccolo qui Ok Perfetto Perfetto Allora giochiamo qui su questo gioco qua Transport Fever 2 Io ho già iniziato la mappa Con qualche giochino O qualche mappa O qualche gioco Qualcosa Dobbiamo mettere delle mod Io gioco ogni giorno Un po' di mod 2 3 8 L'ultimo Perfetto Via Poi se cresce il gioco Allora so qua i mod Non ho problemi Bene, bene Ciao Brockfire Ciao Brockfire In line radio Con i numeri Sulla mappa Del codice postale Poi la gente Va a fare qualcosa di brutto Qualcosa Qualcosa di Chiamato Metagame E ci vai Punti droga Che sente il radio E gioco Questo gioco qua Transport Fever Gio Brock Ehm Sì in tedesco Non c'è ancora L'italiano Ehm Era tanto Che andavo in live Un mesetto Circa Ehm Ecco Qua Ehm 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 Mi Ehm I�i Ehm Maks Io? i trasporti togli la tua mappa e ci sono i trenini che vanno in treni autobus tram che vanno in giro pareva che si era buggato a te porca troia ma vaffanculo scusatemi si è buggato il gioco ovviamente perché ho fatto un altabatto mentre caricava in salvo e esco un attimo dal gioco e allora c'è l'olio bio ciao totò allora non ci sono patch per lingua italiana no ancora no però ti ricordo c'è la versione 1 la versione 1 è fatta in è fatta in italiano quindi molto probabilmente tanta gente dice che probabilmente sarà anche la versione 2 in italiano ma più avanti questo si tratta di più avanti due tre quattro cinque cioè ancora no però più avanti probabilmente si ci sarà una versione italiana è uscito l'11 dicembre quindi c'è nuovo come gioco grazie brockfire grazie per l'osta grazie mille ecco sta finendo già quasi finito di caricare poi ho avuto l'idea di stare live così veloce live si da andiamo in live chi se ne frega stato in live adesso adesso boh vediamo quanto sto potrebbe stare una mezz'ora come un'ora ecco l'importante è fare stare un po' in live così grazie mille Perfetto Perfetto Ho finito di caricare Vabbè deve caricare la mappa Sta caricando la mappa Vabbè non mi senti più Eh ok Bene bene Scusate Ok perfetto così Vedete com'è il gioco Ci sono i treni Passeggeri Merci in cui passano Che devo gestire io tutta la linea La mappa è gigantesca la mappa Devo fare tutte In ferroviaria Autobus Merci, treni, camion In giro per questa mappa qui Io sono arrivato solamente in questa zona qua Da lì, qui, qui E qui E qui basta Zio Bix E qui È carino come gioco Ok ma l'autostrada Ah Ah vabbè Eh sì vabbè Tu magari non capisci bene Il tedesco O l'inglese Ah Però economicamente Sono andato un po' maluccio Anche se però tanto C'è il punto infinito Vedo i merci Con che aspetti ad entrare qui dentro C'è un po' di traffico C'è un po' di Guarda che bello, qua Vabbè bug , mamma mia Bello, bello, ci sta Qui c'è un'altra linea Nel tunnel Un semaforo lì Vediamo un po', allora Qua c'è la linea ferroviaria, vedi quei treni Ci sono Ciao Che bello Qualcuno può vedere se funziona il bot Sto facendo punto esclamativo comandi, per favore Brock, tu magari Perché non l'ho mai provato C'è nessuna... Ah si funziona tutto a pesce bro E qua finisce la linea Poi si apre le porte, è tutto qui Andiamo in cima al treno Riparte Vabbè Dove ricollegare le stazioni alla... Alla città eh Non dite magari forse è meglio va Mi sono accorto ora che sono un cretino Che non l'ho collegata alla città Poi Mettiamo questa strada qui Così Ok 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 no totò non ci sono i parcheggiatori abusivi adesso carriamo la linea di autobus perfetto nuova linea facciamo da qua 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 che cazzo no sono ancora un coglione dall'altra perfetto dov'è qui 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 ok perfetto vuoi schiavare la città? quindi quindi si ciao vi dense 0 1 ok noi mettiamo il deposito mettiamo qua qui 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 no non ci sta qua allora qui qui è un posto in cui non dà fastidio lontano dal traffico qui lontano dal traffico e tutto qui qui compriamo un po' di autobus un po' di autobus ui che belli ora sono aggiunti un po' di autobus non ci so non c'erano mettiamo cinque bus e mettiamo su Wtans boost 0 1 eccoli qua beh Mercedes ciao ciao fa cazzista eh no è Transport Fever 2 un gioco gestionale in cui sei il gestore del sistema dei trasporti merci e passaggeri su una mappa del gioco perfetto tutti usciti e ora vanno per i cavoli loro in giro poi qua giù manca anche il boost che ancora non abbiamo fatto ehm 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 configuriamo passager mettiamo un'altra ma ma ah c'è andato salvataggio qui 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 e qui perfetto poi poi mettiamo mettiamo una fermata qui piccolina questa 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 qua qua e qua qua perfetto costa ora in offerta 30 euro se non sbaglio su steam su steam si chiama transport fiver 2 come vedi sulla live scritto così poi guarda su steam 30 euro poi non so quanto costi su instant gaming scontato no no sinceramente no no questa è migliore questo qui qui è qui è qui 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 ecco le altre di autos bene 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 quante merci abbiamo qui 40 quindi arrivano 77 70 Grazie a tutti. 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 Così la faccio arrivare. Che traffico che c'è qui, mamma mia. Ci metto un semaforo, mamma mia. Grazie. Bene, ho capito. Pure qua un bel semaforo. Tu ci regoliamo un po'. Eh? Verbuson. Verbuson. Io sto giocando a questo gioco perché nel suo GTA ci sono solamente 6x7 persone. Che cazzo ci va a giocare nel suo GTA con poche persone? Fammi vedere quanta gente c'è. Adesso c'è. Le server sono in. Sono in. Non trovo neanche uno che gioca, che è su Steam, che si veda su Discord. Ce ne saranno in 5, 5 gatti. Che giochi, allora. Gioco questo gioco qua per far passare il tempo. Bene, porto qui il merch, poi. Buon, mi sto avuto a mezzo di 40 edifici per sto edificio, però vabbè. Come si muovono qui? Come si muovono qui? Come si muovono qui? Entrano o parcheggiano qui? E poi si muovono qui? Non va. Allora. Qui, ora. Mettiamoci una strada. Mettiamoci una strada. Mettiamoci una strada. Bene. Qua. Fino a qua. Ottimo. Ma ci manca il collegamento ferroviario. Ecco. 160 kHz. Ecco, adesso mi chiedo, cazzo lo passo a passare. Facciamo così. Qui, dove vitto? Facciamo passare sotto. La parca, traga. Ehm, forse è meglio stare un po' indietro. Ehm, forse è meglio stare un po' indietro. Corо sortiere fino sul prossimo. Facciamo più doti. Cap IPO 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINALO ALAZIumCIAL journal. ma Che fei che ho fatto madonna Ecco qua D'oggi in poi penso di portarlo sempre in live Tanto rilassante Spero che c'è anche un po' di persone Ci sono che guardano Allora quindi partiamo dall'inizio Qui c'è già la linea Quindi mettiamo il camion Allora camion per Questa qua Ok questo qui ci mettiamo Compriamo Cinque Perfetto usciranno dal deposito E arrivarono qui o là Incalano da qua Già sto producendo Da qua Alla Poi da qua produrrà Il cibo Quindi facciamo linea Del treno Da Qua Fino a qua Se già Perfetto uscirà Ma compriamo il treno Quale compriamo? Io direi questa Cargo Oh che abbiamo? Coni BTV Grazie per avermi seguito Grazie per il follow Io Ah Coni ma sei tu? Coni sei tu quello Quello che conosco O io rischio C'è il rischio che magari mi crasha il gioco Provando certi carri nuovi Modati quindi Facciamo un salvataggio Quando compriamo di solito le cose Faccio sempre salvo E niente Vabbè devo Ricomprare la La locomotive Una Vagre Cargo Mettiamo Mettiamo tre Quattro Nooo Prendiamole Modifichiamo Fail Una Due Tre Basta così Di metri 166 metri Basta per ora Totale porta 165 Perfetto Le compiamo Due O uno solo Due Intanto ne mettiamo uno Madonna cos'è sono sti carri giganti Nooo Ho sbagliato Mi sa Ho sbagliato Ho sbagliato Nooo Nooo No no giusto 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 Vedo il traffico Sono i camion Giusto Roseto Omaggio Sono i camion Од�� Li Giusto Giusto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di merda qui, che è già pieno di treni. Dovrei portarlo qui, dovrei... In qualche modo dovrei farli fare un giro. Tac, qui. Facciamo così. Chiudiamo questo. Facciamo... Io non so, non c'è nessun alia che ci passa. Facciamo un ponte, allora. Così. Facciamo un giro. 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 Perchè tutto? Eh vabbè sta arrivando in tre però con lo stesso siamo ormai da ora quasi 50 minuti sono passate un po' di persone cioè diciamo una decina di una ventina di persone sono passate le fratte. Questa è un po' vista. Fa lo stesso se si apreva si entra. Agenda aumenta diminuisce. Bene. Qui puoi stare semaforo. Qui. 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 Così. Poi piacciamo fare tutto il giro fino quassù e così. Bene. Da qua quindi portiamo quassù. Ok abbiamo ottenuto merci sei. Però prima ti sto ricordato che ho dimenticato di mettere il camion da qua a là. Quindi la linea che c'è qui. Dimmi mettereci un camioncino. Vabbè ci mettiamo questo qui. E mettiamo sti. Qui. 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 Are MAC 등i lì. Qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, il primo carico di camion, i primi carichi sono partiti, tra poco arriveranno le prime rifornimenti qua, e inizierà la produzione. Il primo carico di camion elettrici, se non sbaglio. Il rumore che fanno. Visto che ho fatto comunque, sarò adesso in tre, ma qualcuno è sul follo, sì, in questo momento. Grazie. Io direi di upgradeare questa strada qui. Ah, strada a due corsie. Qui, qui, qui. Tutta la strada qua, da qua, fino a quassù. Fino a quassù. E poi... Magari anche... No, solo questo, sì, così vedete, sì, il traffico si migliora, diciamo, migliora un po'. Diminuisce il traffico, poi si, diciamo, si distribuiscono in due corsie. Tutto pesce ha cambiato colore della chat, ho visto io. Vabbè, vabbè, no. Se vuoi su Streamlabs, ovviamente, ha cambiato colore della chat. Ah, ti do account. Ecco, perché... Con il nome uguale, perché... Ecco, ho visto... Totopesce, totopesce... Ah già è vero Però ci sembra un po' di coda però vabbè Eh ma se strada è nuova Che strada è questa? Che strada è strana Vabbè Vabbè Per i merci sono Sì ce l'è Hai iniziato a produrre Bene ora ritieni che possiamo mettere il treni pure per questa linea qua Viva la coda Oh è poca coda però c'è Guarda vedi Solo qua un po' perché c'è il semaforo qua che passa il pedone E poi passano vedi Oh si escono una casa qua Allora 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 Per adesso in questo momento sulle strade e servizi su strada tipo camion Tram Tram E autobus ci stanno fruttando soldi Però danno soldi Invece la ferrovia Invece la ferrovia La ferrovia invece non va molto bene perché Non ci fa perdere 6 milioni di dollari Perché allora i ticket ci forniscono i soldi Ci forniscono 29 milioni di dollari Però c'è il Però per mantenere l'infrastruttura ovvero treni I binari I semafori e le stazioni Ci consumano un pacco di soldi Quindi dobbiamo cercare di far saltire i ticket Più possibile Perché sono l'uniche cose che ci possono fruttare Queste saranno sempre così negative Quindi tutto ciò che perdiamo qua Dobbiamo recuperarlo con questo E con questo Soprattutto anche con le strade E invece poi ci sono gli investimenti Che faccio con le costruire Queste qui sono Capita A seconda degli anni In cui costruisco cambia Però se guardi Le spese Sono altissime Però anche i godanni aumentano Si vede Beh bene bene Grazie a tutti Grazie a tutti. Vai che sale, vai, su, 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 sai che sali, su. E qua abbiamo quella, che traile, guarda due qui. Facciamo qui così, tracca, tre di fie... Taccate. Tutte qua le portiamo, raga. Qua... Ci facciamo... Una strage di cose, quindi, che traile. Però questi le facciamo... Via barca, eh? Che ne dite? E come si fanno abbastare i pezzi di ticket? Totò? Non si può. No, non è possibile... Abbastare. Facciamo così, via barca, facciamo. Quindi mettiamo il porto per merci. Con quattro terminal. Vabbè, due. Facciamo solo due. Puoi si può configurare? Vediamo. Qui? Qui si può mettere. O è no? Qui si può mettere. 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 Vabbè questo non ci interessa adesso Comunque Poi facciamo un casino qua che non riesce più nulla Aspetta Qui ci passa Ci passa qua sotto Sì qui Tutto navigabile Sì Oddio qui Opla Ai 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 Può abbassare un po' qui il territorio Un po' magari qua Per ingrandire il fiume qui Sì si può fare Su Si ingrandisce un po' il fiume va Sì 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 Ottimo Sì Sì Su primo gioco anch'io Qua però la cosa figa è che puoi Crearti fiumi se vuoi Guarda che figo Facciamo così Ti crei il tuo fiume Cioè ma che figo è Lo to' Adesso abbelliamo un po' la costa perché è un po' tutta Un po' Un po' il gradino qui Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Grazie. Ok, mi sentite? Perfetto, rifettiamo uno. Un molo qui. Qui. Perfetto. E direi che possiamo anche togliere questo pezzo di terra qua. Ma così lo rifaccio io per bene. Lo rifaccio io, lo rifaccio. Qui lo si steggia un po' così. E poi con questo qua. Con gli alberelli. Gli rimettiamo. Ritorno. Così. Così di nuovo bello. Perfetto. Così è più comodo, no? Per le barche passando a manovrare. Poi. Tac. E tac. Così le barche passano per di qua. E passano il get ride qui. Quindi. Barca. Merci. 01. Perfetto. Qui. E invece qui giù le facciamo un altro. Di porto. Si collega? No. Lo collego io. Così. Dov'è questa qua? Così vedete. Tac. Si collega. Così. Facciamo magari un giro qui intorno. Aspetta. Facciamo un po' più dritto. Lo passare qui. Così. E poi lo attacchiamo qua. Ottimo. Vai, vi è pure tu il gioco. Così. Vuoi costruire anche tu qualcosa? Poi la prossima linea. La facciamo da qua. A qua giù. Sarà un bel po' più lunga. Perché. Le barche sono lente. Si. 0.23. 0.2. 0.2. Si. Ho fatto il. Vedi come lo gioco io un po'. Poi i pulsanti sono facili. Ti guardi come gioco io un po'. Meno male. Ti sordino un po'. Allora. Oh. Vediamo qua allora. Qui abbiamo. Meno 6 milioni. Sempre. Gli investimenti sono troppo grandi. Troppo. Allora. Prima o poi riusciremo ad arrivare in più. Positivo. E trai da qua. Produce. Perfetto. Allora. Adesso vediamo. Uh. Si sta per avanzare. Sta per avanzare al livello 2. Bene. Il. Dove è qua? Questo. Lo mettiamo magari qua giù. Che c'è un po' più di spazio. Questa è navigabile. Sì un po'. Lo mettiamo qua. C'è un po' più di spazio. Magari giusto per sfizio ci portiamo una stradina qui così perché magari è un po' più bello da vedere. E esteticamente. Perfetto. Ci sponiamo le barche. Allora. Cargo. Eh. Poi non troppo grandi. Questa è del... Di che anno è? 1943. Una un po' più moderna. Ce ne abbiamo. 16, 13, 990. Quanto è grande? Meglio. Vero lente. 30 km. Proviamo in questo. 4. Mettiamo. Tanto. Mettiamo 3. Sulla 0, 1. Mi compriamo magari. Alt. Mettiamo 4 invece. Sulla 0, 2. Ah ma aspetta. Pavorco. Giugio. Mi lo tirate fuori senza manco pensarci. Tutto giusto. Sì sì. Tutto. Danno anche. Get Line. Perfetto. Perfetto. Vediamo se produce. Che ho messo pure i mezzi sulla linea. Ah non è collegato. Aspetta. Questa non è collegato. Così. Perfetto. Quello è collegato. Perché l'ho fatto prima. Quindi in turno a questo. Tra poco inizierà a produrre. E questo pure. Ok. E il porto qui è collegato. Qua. Vediamo le barche. Eccole qua. Glicci dell'acqua. Glicci della vacuna dell'acqua. Glicci della vacuna dell'acqua. Bene. Siamo di voi rimasti in tre. Perfetto. 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 Vedere sta linea qui. Come mi frutta. Si mi porta un po' di soldini. Quindi possiamo metterci dentro. Altri due autobus. Altri tre autobus. E li mettiamo tutti su questa qua. E li mettiamo tutti su questa qua. Bitnesse booster one. Comunque vediamo un po' allora. Questa barche. Vabbè le barche. E' previsto che. Bracca. Mamma mia. Bar. Barca. Marce zero uno. Le barche sono destinate a dover perdere soldi. Perché tanto assolutamente. Sono lente e tutto è scomodo. Questo va bene. Questo qui. Gira uno a vuoto. Si. Pratica. Ok. Facciamo così. Ne vendo un altro. Sperando che magari. Tutti un po' di più. 7 persone. 10 persone su 50. Un po' che. Questo va bene. Questo va bene. Questo va bene. Questo va bene. I merci. I treni. Sono. Le spese. Le spese troppo elevate. Quindi. Ovvio che. Ci sarà costato. Costa tanto. Diciamo. Poi. Poi. Qui abbiamo. Questo treno qui. Che sono continuamente in perdita. Vabbè. E poi. Tutto il resto qua. Vabbè. Pian piano recupereremo qualcosa. Vabbè. Vabbè. 85 persone. E il treno è. Qua. 200 posti. C'è. Sì. Ragazzi. Ricordi facilmente. Tata. Ok. Fingora qui. Va bene. È passato a livello 2. Yes. Ula. Livello 4. Vai. Qua giù cos'è? Funziona tutto qua giù? Non va niente. Mamma mia ragazzi. Vabbè. Pian piano si riprende. Ok. 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 Qui però non so se fare magari in camion. Che ho qua giù. Se mi conviene. Faccio scendere il tunnel. Circa qui. Ce le faccio magari per una cosa più bella qui così tipo. Faccio scendere in un tunnel perfetto qui. Questo. Faccio fare una curva qua così. Sott'acqua. La faccio rilzare qui così. No. Lo portiamo fin da su. Più veloce questa strada qua. Perfetto. Che bello è questo. Questi campi così. Che belli sono. Fatti benissimo. Che c'è in live. C'è ancora qualcuno? Tra poco devo staccare però. Tu... Fatti... Fatti. Fatti. Grazie. 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 E ops, abbiamo collegato adesso. Perfetto, tutto. Dai, su, doveri aumentare il consumo. Dai. La produzione, guarda. 48. Eh, però mancava, vedi, mancano molto di anima. Ah, ciao. Non, c'è. Non, c'è. Non, c'è. Non, c'è. Non, c'è. Ah, ma... Ma, c'è. Qua? Ci produciamo? Mamma mia! Produciamo su... ... ... ... Mettiamo Sempre soliti i camion Andiamo a prendere questi Mettiamo 5 Bene Già inizia a produrre, ottimo Ottimo Bella qui 128 Io ora do portare così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bene Poi Cargo Potremmo provare questo Fa 160 Le compro 1 2 9 Rip 1, 2, 3 Mi fermo qua 100 120 Perfetto Le compro 2 3 Ho 3 Ho 3 3 Vai Qui è collegata, perfetta Con tutta l'industria Con tutta l'industria Però io ho il pane Lo devo portare da un'altra parte Voglio vedere Dov'è qui? Esatto qua giù È la zona Produttiva Produttiva Vedi quella blu Zola residenziale Zola industriale Zola produttiva Devo portare qua giù Il camion Verci Qua Purtroppo Se l'edifici Mi devono lasciare Dov'è bu Qua Grazie. E mettiamo 1 rip. Allora... Poi giù, guarda, già non c'è 100 o 13 persone, aumentano sempre di più. Il traffico qua... sempre di poco. Ma qui si è sviluppato tutto, guarda. Le stradine che prima non c'erano. Totò, ci sei ancora tu? Qui si è messo in automatico a senaforo. Stai giocando anche tu questo gioco, Totò? Non c'erano. Allora... Allora... ... ... Grazie a tutti. 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 Continuiamo un altro giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.